Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e quindi adesso siamo qui su Lucky Wars Benvenuti, benvenuti Arrivati E dai Adesso aspettiamo che fai giù dei suoi spettatori Ecco, siamo comparsi nel buio con la magia Fai giù la magia, magia, cadabra, cadabra Nei Antros, Kendris, Kendris, Trindris L'Ele, 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 L'Ele Oh, l'ho fatta volare Guardiamo qui Ho composto quello su, dei cubi, delle costruzioni Fuori due Lì sembra i bancarelli, sembra i tavoli, con le bancarelle attaccate come al parco Ma Dice l'albero Quello, quel cosi viola Sembra i pezzi, costruzioni Sì Sì Questo è anche lui viola, compare viola Non so perché Per credarsi che di là è viola Oppure con il fuoco Beh Una volta facciamo anche di Mario Bros Mario Bros Per me è meglio di Minecraft Tu Minecraft meglio Dicelo nei commenti se piace di Minecraft Perché meglio Mario Perché Mario c'è le macchine C'è il fungo C'è le cose, l'orso, il coniglio C'è Mario Bros, ci sono due di Mario Bros C'è il blu, c'è il blu, il rosso e il giallo di Mario Bros C'è anche il verde di Mario Bros Sono quattro Ho vinto dell'arco Ho vinto io, ho vinto io Grazie a quell'arco Noi siamo qui Nella parte sconda Nel nuovo video In un video siamo Grazie di aver visto questo video Iscrivetevi Mettete like Mettete gente Bum 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 Grazie a tutti